Manca poco ormai. L'attesa è finita. A Branca Leone. Foodgolf Beach. Prima edizione. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute. Ragazzo, come procedono i lavori qua? Buonissimo. Tutto sotto controllo? Siamo quasi pronti. Cosa dicevi? Dica, dica. No, niente. Dica, dica. Tutto ok, grazie. Dica, dica. Ciao, ciao ragazzo, buona giornata. Ah, vedi, questa è la parte bella, una Calabria che c'è presente. Dimmi solamente la tua, raccontami brevemente la tua impressione su questo Branca Village. Come la vedi? Buonissimo la vede. Non ci saremo stanchi, ma potenti. Tu lavori e bisogna documentarlo, sai che è un evento eccezionale. Ciao, ciao. Ciao, bello, non mi stai. Andeprima Calabria estate 2023. Si chiama Branca Village, 28, 29 e 30 luglio, dove? Nella costa dei Gelsomini. Un gruppo di giovani di sana e robusta costituzione denominato Armata Branca Leone, ci dà appuntamento alle ore 6, sulla promenade di Branca Leone Marina. Siamo in provincia di Reggio Calabria. Il villaggio prende vita. Si ride, si scherza, si lavora, si va a caricare e poi si scarica, si ritorna, si si arrampica e ci si carica uno con l'altro. A rendere tutto più leggero è il talento inaspettato di curiosi artisti, pronti ad esibirsi on the road. Qualcuno direbbe, e non finisce qui. Sì, di fatti, il Branca Village non è ancora finito. Ragazzi, non è facile. Mi hanno fatto alzare alle 6 del mattino. Non è meraviglia. Le 6 del mattino. E incomincia l'avventura. Tu, sei felice? Bravo, così mi piace. Grande Michele. Grazie.